Nazareno porta salita che Mario vuole andare veloce col cavallo eh vai portagliela qua prova andare tanto qui non si muove così ti prendi confidenza ma che ha fatto Leonardo che ha messo su sta panza eh ora ha mangiato una cinquantena di cocomeri da stamattina c'è da regolargli un attimo le staffe aiuto aspetta te lo faccio muovere un attimino Anna siamo pronti andiamo ragazzi a visitare l'insegnamento alto medievale denominato Cencelle che sarebbe la vecchia civita vecchia che si è spostata qui per l'attacco dei saraceni che venivano dal mare cosa ti piace di questo mestiere? Beh innanzitutto diciamo che la risposta un po' è contenuta nella tua domanda il fatto che possiamo lavorare tutti insieme con la con il resto della famiglia che questo è sicuramente il primo aspetto il secondo è che ognuno di noi in questo lavoro può mettere le sue capacità le sue prerogative e caratterizzare in questo modo tutta la nostra azienda agrituristica quindi l'unione fa la forza? L'unione fa la forza e quando l'unione della famiglia fa una forza più grande ancora più forza tra l'altro tu la tua azienda è la prima del Lazio che ha aderito ad una rete di imprese che cosa significa? Spiega meglio. Significa l'insieme di più aziende nel nostro caso in particolare sono sia aziende agricole in senso puro che aziende agrituristiche che cooperano per far vivere in un modo diverso migliore e più intenso il nostro territorio alle persone che vengono per scoprirlo. Infatti tu Anna nel tuo agriturismo proponi tante attività in collaborazione proprio con altre realtà del territorio? Certo Francesca proponiamo escursionismo a cavallo, proponiamo gite in bicicletta, proponiamo laboratori didattici, tutto questo per far sì che i clienti vivano personalmente attraverso la forma che loro preferiscono quella che è la peculiarità del territorio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.